bella by dispawn ancora la parola di center pariamola 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 bella ragazzi pariamola 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 Grazie. 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 Persici i luci. Qualche americano. In su. 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 In. In su. In su. Grazie. 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 Fuld timer? Peske. Grazie. 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 Un'anipellula, 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 vediamo qualcosa di meglio. Sono un lago Bologna, sono a Bologna, forse però mettiamo qualcos'altro, perché io volevo qualcosa di interessante, questo ci assomiglia molto però, proviamo questo, anche se sono sponda, sono sponda trota, però mi diverto lo stesso, e non me ne frego la cioppa. Dov'è andata a finire? Ah, va dentro. Grazie. Grazie. No, sono sponda trota, però non sono trota. Allora, io vorrei cambiare la prospettiva però. No. No. Allora, faccio qua, commento, regola, pausa forstiera, regalo, commento. No. Ma nulla, perché lì c'è nulla? No, non voglio nullare. Io voglio un paio di forbici. Allora. Allora, la mia sponda piccolina. È il mio sponso piccolino. Tagliamo. spotticolino ecco qua allora io adesso lo attacchiamo così questo lo chiediamo così e in teoria dai minchia che due maroni bella proviamo con questo spot qua se lo facciamo a gabbana a qualcos'altro teoria punta bene anche l'acqua va un po' più brillante più brillante questo un po' più brillante come prende qui ma ragazzi non posso parlare perché non mi arriva l'altra ganza è inutile bella è inutile 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 e lo so come si è messo due cucchiai ragazzi le volete due cucchiai? babbana vediamo qua qua c'è le forze si che bisogna tenere lì a posto se no le perdo però mi piacerebbe due gommine almeno una da metterglielo nel culetto vi lo metteremo molto volentieri eccole qua ecco questo voglio ecco qua anche questo qua potrebbe andare bene mi piace assai questa secondo me potrebbe fare un po' la differenza questi bassi poi stiamo a vedere aia scusa un po' un po' più ecco 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 Grazie a tutti. 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 Il secondo... Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. 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 l'altra. tutti. . 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